Ciao a tutti bentornati, eccoci una nuova video lezione. Prima di iniziare vi chiedo però se siete già iscritti al canale, se ancora non lo siete vi invito a farlo. L'iscrizione è gratuita e vi consente di restare sempre aggiornati sui contenuti che vado a pubblicare di volta in volta appunto qui sul canale. Io sono Federica, sono una docente di arte e immagine alle scuole medie, attualmente disoccupata, però chissà quando starei guardando questo video, probabilmente sarò già in una nuova scuola, speriamo. Se sei un docente come me e ti piace coinvolgere i tuoi studenti, ti invito ad andare a dare un'occhiata al negozietto, il cui link trovi nella prima riga della descrizione del video. Qui ci sono tutta una serie di pdf che io realizzo per le mie classi e che tu puoi scaricare e riutilizzare poi tutte le volte che desideri. I pdf hanno un costo irrisorio per tutto il lavoro che poi alla fine c'è dietro. Chi prepara le lezioni sa cosa significa tutte le volte doversi mettere lì e impostare una lezione nuova. Io ancora sono molto appassionata del lavoro che faccio perciò cerco sempre di creare lezioni mie. Faccio riferimento al libro però tendenzialmente diciamo che le costruisco su quello che io ritengo sia più meglio percepibile dalla classe. Allora la lezione di oggi è sull'arte della controriforma. Innanzitutto bisogna richiedere un contesto storico. Siamo alla fine del quattrocento e da un momento in cui la chiesa è attraversata da diverse tensioni religiose. Nascono nuovi profili della religione cristiana, uno in particolare che vedremo tra poco, ma queste tensioni religiose sono per lo più dovute al fatto che non si può più chiudere gli occhi di fronte alla corruzione della chiesa di Roma che culmina con il celebermo scandalo della vendita delle indulgenze promosso da Papa Leone X che aveva scatenato l'ira di personaggi che in questo momento si stanno facendo diciamo così vedere mettendo in mostra che sono Fra Savonarola e Martin Lutero che miravano ad un rinnovamento della chiesa e chiedevano una vera e propria pulizia spirituale. Fra Savonarola è un nostro vecchio amico perché nelle lezioni precedenti, faccio come fanno quelli che fanno i trailer delle serie tv. Nelle lezioni precedenti lo abbiamo visto molto operoso a Firenze, è lui che fa cacciare i medici ed è lui che cerca di riportare sulla retta via i corrotti. Lo stesso Botticelli mette in dubbio la propria arte dopo aver udito le prediche del Savonarola e ha un cambiamento proprio nel suo stile artistico che lo porta a rinnegare tutto quanto fatto in precedenza, parliamo quindi della sua famosissima primavera, parliamo della nascita di Venere e altre opere molto famose a soggetto mitologico, per condurne invece a realizzare numerosi dipinti a tema sacro, diciamo stilisticamente un pochino più noiosi rispetto a quello a cui ci aveva abituato all'inizio della sua carriera artistica. Martin Lutero vedremo tra poco quale ruolo ha. Nel 1515 Papa Leone X che è questo personaggio ritratto da Raffaello nel 1518 in un dipinto a mio parere molto bello, insieme a due esponenti della famiglia Medici dalla quale lui stesso proveniva, si era messo in testa, ma in realtà era una cosa che già aleggiava nell'aria, di voler ricostruire la Basilica di San Pietro, che ormai era, dopo che c'è stato lo spostamento della sede vescovile da Roma ad Avignone, la Basilica di San Pietro non era più necessaria, aveva perso il suo appeal e non se l'era più guardata nessuno e quindi era stata lasciata andare. Quando poi il Papa decide di tornare a Roma si sente la necessità di ricostruire la Basilica di San Pietro e di farne la chiesa più grande, più bella, più maestosa di tutto il mondo. Papa Leone X era molto convinto di questa iniziativa, ma per poter ricostruire la Basilica di San Pietro, ricostruirla, ristrutturarla, restaurarla, aveva bisogno di una grandissima quantità di soldi che la chiesa in quel momento non disponeva tutti, insomma vivevano nell'agio e i soldi li spendevano. Quindi cosa aveva deciso di fare? Aveva deciso di vendere, senza neanche darsi troppo, cioè senza neanche troppo nasconderlo, le indulgenze. In questo modo sostanzialmente lui chiedeva i soldi alle persone per far sì che le persone si ripulissero nella loro anima dai propri peccati. Martin Lutero, ci spostiamo dall'Italia un attimo per parlare di Martin Lutero, perché lui fu un religioso tedesco, lo vediamo in questo cerchiolino, è un'immagine che ritrae appunto Martin Lutero, è sempre bene dare una faccia ai nomi che leggiamo nei libri di storia dell'arte, ma in generale. Anche lui era convinto che la chiesa dovesse fare un passo indietro e che si dovesse assolutamente cambiare regime, cioè le cose così non andavano bene. Quindi lui cosa fa? Non sta solo a guardare, anche lui in un certo quel senso si muove come ha fatto il Savonarola. Il Savonarola era famoso per scendere in piazza e fare le sue famose prediche e mettere a rogo, ad esempio, i dipinti degli artisti che lui sosteneva fossero sconvenienti. Martin Lutero scrive un testo intitolato le 95 tesi contro la chiesa cattolica. Lui fu il padre della religione protestante, lui fonda la religione protestante, una costola della religione cattolica, per dirla banalmente. Con lui, quindi, in Germania nasce il protestantesimo, da lì poi si diffonde soprattutto in nord d'Europa, Inghilterra, Danimarca, Norvegia e Svezia. Vediamo appunto una mappa in cui potete vedere in blu i protestanti, in verde i cattolici, compresa quindi l'Italia, la Spagna, la Francia, l'Austria, quella volta quelli che si chiamavano i territori polacchi, e in giallo gli ortodossi. Cos'è il protestantesimo? Possiamo dire che il protestantesimo nasce dal cristianismo, è una sua derivazione. Ha numerose differenze però, ok? La prima grande differenza è che il protestantesimo lascia libero il fedele di interpretare la Bibbia. Cioè, sei tu fedele in autonomia che leggi la Bibbia e la interpreti secondo la tua facoltà. Perché appunto si rifiuta il potere del Papa e di tutta la gerarchia ecclesiastica. Diciamo così, non ci si affida alle persone e alla chiesa come istituzione, piuttosto alle sacre scritture. Il protestantesimo non crede alle indulgenze, quindi non crede che una persona possa ripulirti l'anima. Cioè, non esiste la storia della confessione che tu vai là, ti confessi, confessi i tuoi peccati e ti viene detto di, boh, che ne so, dieci Ave Maria e sei libero da ogni tuo peccato. Per loro non è così. Abolisce il celibato per i religiosi, ok? Quindi è consentito ai religiosi di frequentare delle persone e anche di sposarsi. Rifiuta la venerazione delle immagini religiose. Possiamo dire che è, in un certo qual senso, una religione un po' più pulita. Cioè, è un cristianesimo un po' più pulito, in un certo qual modo, per quanto riguarda il fatto di rifiutare il Papa e il potere del Papa e la gerarchia ecclesiastica, di non credere che una persona possa ripulirti l'anima attraverso le Ave Maria e la venerazione delle immagini religiose, che è una questione che abbiamo già affrontato con la crisi iconoclastica, appunto il fatto di non venerare le immagini, perché era considerato una cosa che non andava bene. Abbiamo parlato in una lezione precedente, adesso mi allargo troppo, quindi meglio se io continuo a stare sui miei binari. Quindi qui vediamo, chiaramente questa cosa non andava bene a Papa Leone decimo, non è che tu puoi scendere in campo e dire che io con il mio metodo sto facendo male, cioè ti vai a inimicare tutto il mondo della Chiesa e quindi non puoi continuare, a mio avviso, ad operare all'interno del mio sistema. Per cui il Papa scomunica Martin Lutero, così come poi lo stesso Sabonarola, verrà bloccato, fermato e condannato a morte. In tutto questo ambaradan succede che la Chiesa Cattolica prende una posizione anche in merito alla riforma protestante, che comunque era dilagata parecchio in tutti quei territori in cui prima il cristianesimo invece la faceva da padrone. E quindi si decide di riunirsi, tutti i grandi della Chiesa si riuniscono in questa grandissima assemblea, importantissima assemblea, che si chiama Concilio di Trento, perché avviene appunto a Trento, avviato da Papa Paolo III nel 1545. Era una sorta di grande riunione dove c'erano vari esponenti religiosi che avevano l'obiettivo di risolvere i contrasti di sapori coi protestanti e cercare di arginare la diffusione della loro religione. Nella realtà dei fatti invece si concluse non tanto bene perché la Chiesa decise di condannare qualsiasi altra dottrina al di fuori del cristianesimo. Il Concilio di Trento durò diverso tempo perché a inizio nel 1545 si chiude nel 1563 e dopo il Concilio di Trento in Europa ci furono molte guerre di religione tra sovrani cattolici e protestanti. Oramai diciamo la Chiesa, io sono un po' di parte in questo senso, cioè la Chiesa si era già sporcata troppo e puoi vietare quello che puoi vietare ma il protestantesimo si era diffuso quindi era innegabile che questa diramazione proseguisse, questa nuova religione proseguisse e quindi questi dissapori continuarono e l'ultimo grande conflitto fu la guerra dei trent'anni la cui scintilla che scatenò questa grande guerra fu l'episodio della defenestrazione che si verificò a Praga. Vi faccio vedere questo dipinto che mostra un giorno specifico che è proprio quello in cui avvenne questa defenestrazione, defenestrazione cioè proprio buttare fuori dalla finestra, sorrido ma è chiaro che non è una cosa proprio, non c'è molto da ridere. Il 23 maggio del 1618 alcuni rappresentanti dell'aristocrazia protestante catturarono due governatori imperiali cattolici e un loro segretario e li lanciarono fuori dalle finestre facendoli cadere da un'altezza di oltre 10 metri sull'etama e messo lì dei contadini. In poche parole cosa succede? C'erano i sovrani cattolici a Praga ma la maggior parte dell'aristocrazia era di religione protestante. Ecco che quando hanno l'occasione decidono di far valere i propri punti di vista diciamo così un po' allegramente e di dar loro una lezione. Come dire noi non sottostiamo quello che ci viene detto dall'imperatore e ci ribelliamo, ci ribelliamo e quindi buttiamo dalla finestra voi e il vostro segretario. In ambito artistico questo clima cosa comporta? Vi ho già parlato del Frassavonarola che smette di realizzare dipinti innovativi per l'epoca a soggetto mitologico che seppur siano soggetto mitologico nascondono sempre dietro quella ricchezza intellettuale tipica delle opere nate all'interno della cerchia di Lorenzo dei Medici dove la filosofia neoplatonica la faceva da padrone mi ripeto e quindi in un certo senso si possono anche alcune sue opere a soggetto religioso e a soggetto mitologico possono essere lette in termini religiosi. Ad esempio nella nascita di Venere c'è chi ha letto una reinterpretazione del battesimo di Cristo. Con la controriforma si moltiplica nei luoghi di preghiera. A Roma il Papa decide, non solo il Papa ma tutti gli ordini religiosi cristiani e le famiglie benestanti cristiane a loro volta decidono di utilizzare i propri soldi per commissionare opere a soggetto religioso e quindi in un certo qual senso anche attraverso l'arte cercare di continuare a indottrinare le persone verso la retta via. Però ci sono alcune opere d'arte che vengono viste come sconvenienti in questo preciso momento storico. Il caso più eclatante in assoluto è l'imbraghettamento dei nudi Michelangeleschi nella Cappella Sistina. Michelangelo che aveva da poco decorato la parete frontale della Cappella Sistina aveva già realizzato in precedenza la famosa volta. Sulla parete lui aveva realizzato il giudizio universale. Michelangelo non aveva assolutamente previsto di coprire i suoi uomini eroici muscolosi che erano quasi completamente nudi, fatta eccezione per alcuni personaggi che invece hanno delle vesti a coprirli. E quindi si decide affinché queste immagini siano consone ed ecorose e quindi aderenti anche a quanto riportato nelle Sacre Scritture di mettergli le braghe. Questo episodio qui porta alla ribalta questo artista che si chiama Daniele da Volterra, un artista peraltro di grandi capacità che ha la sfortuna per questo suo intervento di essere ricordato all'interno della storia come il braghettone perché ebbe il compito di rendere decorosa l'opera di Michelangelo e quindi mettere le braghe ai nudi Michelangelo. Nel Concilio di Trento a livello artistico si evidenzia il fatto che le immagini devono sostenere la fede del popolo come vi dicevo no? Cioè ancora c'è ancora quella quella allora c'è ancora le persone ancora così come veniva anche nel Medioevo e negli anni precedenti ma soprattutto nel Medioevo vediamo come le immagini che si trovano prettamente all'interno degli edifici religiosi sono la cosiddetta Bibbia dei poveri. Per istruire le persone lo si fa attraverso le immagini perché moltissimi sono quelli che non sanno né leggere né scrivere gli analfabeti. Durante il Concilio di Trento si decide che l'arte deve essere posta a servizio della religione mai come in questo momento la Chiesa ha bisogno che le persone stiano sulla retta via stiano dalla sua parte ok? Come si fa a fare questa roba qui? Attraverso un tipo di arte che consente alle persone di immedesimarsi nei fatti stessi che l'arte sta narrando e che gli consenta quindi di parteciparvi con passione e sentimento. Questo aspetto dell'immedesimazione è una cosa, è uno strumento di marketing molto attuale cioè lo si fa ancora oggi. Possiamo dire che gli artisti in questo momento sono chiamati a fare storytelling molto molto spinto. Hanno il compito di guidare le persone verso la religione. Quello che avviene al Sacro Monte di Varallo è in tal senso veramente significativo. Siamo in un'altra parte qui su di una collina, una montagna. Adesso non ha grandi... non so quanto sia alta questo Monte di Varallo però sinceramente non ci sono mai stata. Dalle immagini non sembra altissimo. Monte ok. Praticamente viene messo in scena una sorta di teatro. Varie cappelle e comunque edifici all'interno dei quali trovano posto in totale 800 sculture in legno o in terracotta a grandezza naturale tutte dove si punta moltissimo al realismo. Le cappelle poi sono affrescate per ricreare luoghi menzionati nei Vangeli e quindi c'è l'intento di rendere ancora più partecipe il fedele dandogli l'impressione di trovarsi al centro di ogni scena. Voi immaginatevi di ritrovare all'interno di queste cappelle interamente affrescate e di trovarvi faccia a faccia con delle sculture a grandezza naturale che mettono in scena gli episodi salienti della vita di Cristo come è in questo caso in cui si vede il Cristo che trasporta la croce, un personaggio che gli dà un calcio e tutto attorno una cappella gremita di sculture. C'è già l'intenzione di teatralizzare la scena raffigurata attraverso anche una commistione di diverse tecniche artistiche che sarà poi propria del barocco, del barocco pieno. Qui tutto però è teso a far sì che questa rappresentazione possa suscitare un forte coinvolgimento da parte del fedele. Un'altra immagine è questa che ritrae un altro episodio importante che è appunto Gesù portato da Ponzio Pilato. Vedete come sulla parete di destra siano raffigurate delle figure e c'è questa sorta di continuum tra il piano bidimensionale della parete e la prima scultura che troviamo sempre sulla destra con la lancia nelle mani. Vedete come il personaggio dipinto e quindi non la scultura ma è dipinto sulla parete che indossa l'armatura ha questo effetto quasi come di uscire dalla parete e di mettersi in coda dietro al soldato che sta portando appunto Gesù Cristo che porta tutti i segni delle torture a cui è stato sottoposto, ha il volto chinato, quindi è pieno di ferite, ha le mani legate, è legato al collo da una fune sorretta dall'altro personaggio davanti a lui, ha la corona di spine. Anche la stessa raffigurazione di Cristo che deve essere, ed è il Consiglio di Trento a chiederlo, afflitta, deve essere sempre raffigurato, afflitto, cioè le ferite si devono vedere, perché l'obiettivo è quello di scatenare la compassione nel fedele che lo sta guardando. Al monte di Varallo io non ci sono mai stata, ma ho trovato questo video che appunto vedete qui, poi magari se vi interessa, se me lo chiedete nei commenti perché io poi mi dimentico, ve lo posto perché è un video che si trova su YouTube, posso anche mettervi il collegamento ecco nei commenti diretto senza che ve lo andate a cercare da soli. Credo che questo esempio sia quello più significativo in assoluto, poi esistono tantissime pale d'altare, dipinti, altre opere d'arte che viaggiano lungo la linea, cioè che sono inerenti ai dettami del Consiglio di Trento, ce ne sarebbero una valanga, però siccome tendenzialmente quella roba qui a scuola non si fa e forse anche per quanto riguarda la contro riforma ci sono dei paragrafetti veramente minuscoli, però secondo me vale la pena far vedere come l'arte non sia solo in un modo, ma ci siano varie sfumature, questo secondo me a livello proprio di coinvolgimento, di tecniche artistiche secondo me può piacere ai ragazzi, cioè mi andrebbe fatto vedere, chi magari mi segue dalla Lombardia è a modo magari anche di organizzare delle gite, perché no una bella gita al monte di Varallo non sarebbe male, Lombardia, Piemonte, ecco in quelle zone lì, va bene, io vi lascio, vi saluto, mi scuso se ho detto delle cavolate ma ci sono 39 gradi un caldo dell'accidenti, ho cercato di stare concentrata ma forse a volte qualcosa dalla bocca di errato mi è uscito, vabbè, ci vediamo alla prossima